Un servizio potenziato di guardia al Giardino Pubblico dei Tomasini, uno dei punti critici della sicurezza cittadina, al centro di molte segnalazioni da parte dei triestini e di alcune operazioni delle forze dell'ordine. Da qualche giorno la presenza nelle ore diurne di una guardia giurata tra i vialetti del parco urbano è stata rafforzata, così come aveva anticipato il sindaco Roberto Di Piazza a Ring. In anticipo ho parlato con il nuovo questore e andiamo duri, ho messo in Giardino Pubblico il guardiano perché c'erano delle bande di ragazzi, costa però almeno le mamme sono al sicuro con i loro bambini. Conferma l'assessore comunale alla sicurezza Maurizio De Blasio, il servizio è attivo da qualche settimana e indubbiamente il Giardino Pubblico è un luogo da tenere sotto controllo osservazione per consentire ai suoi frequentatori abituali, tra cui molti anziani e famiglie con bambini, di trascorrervi il tempo in tranquillità.